ciao a tutti i ragazzi e ragazze bentornati sul canale di jored prima di proseguire con il video e vedere le carte di chi è stato eliminato vi invito se vi va di mettere like al video e iscrivetevi al canale per avere altri aggiornamenti iniziamo quindi carte è andata in onda la seconda puntata del serale di amici 23 tante le sfide durante la puntata ma noi come avete ben capito ci soffermiamo sul primo eliminato ovvero nella prima manche dove abbiamo visto scontrarsi cuccalo verso spettimondo quest'ultima squadra vince e a rischio eliminazione vanno lucia nicolas e sarah lei è la prima salva e tra lucia e nicolas quest'ultimo è il primo eliminato in questa seconda puntata e voi siete d'accordo con questa eliminazione scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento ho concluso questo piccolo video news un grosso abbraccio alla prossima news ciao 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 ciao